Molti uomini vorrebbero farle capire che lei a loro piace, vorrebbero magari provarci con lei e vedere se c'è un interesse anche da parte sua, ma visto che magari si conoscono in compagnia, a scuola o all'università o al lavoro, temono le ripercussioni di un rifiuto e non sanno quindi come muoversi. Quindi in questo video vediamo tre modi per farle capire che le piaci senza bruciartela, qualora lei ti desse degli indicatori di disinteresse in modo da poterti ritirare indietro e non metterti nei guai. Prima di cominciare però ti ricordo una cosa molto importante, ho anche un canale Telegram chiamato Giudio Lorenzo, qui ti do delle informazioni molto più avanzate che su YouTube dove mi vedi ora non ti posso dare, quindi venimi a trovare anche lì, link in descrizione. Bene, cominciamo. Uno, contatto fisico. Una volta in termini old school si diceva di far partire il contatto fisico il prima possibile. Mentre questo detto si applicava principalmente alla discoteca, è comunque valido per cercare di sondare, se non l'interesse di una ragazza, perlomeno il suo non interesse. Parti con qualcosa di leggero, tipo il toccarle il braccio. A questo punto lei avrà subito una prima reazione, è la prima reazione che vuoi guardare, in quanto è una reazione inconscia. Se è di repulsione sai di avere un grosso problema, ma se è di apprezzamento puoi calibrare. Due, florta con lei. Se lei ricambia hai un altro indicatore che è game on. Tre, escala le cose fra di voi. Se ad esempio ti dà segnali positivi e lavorate insieme, invitala a prendere un caffè appena possibile, anche solo alla macchinetta. E se siete in università, invitala a fare la pausa pranzo con te, prendi il suo numero per rivederla, eccetera, eccetera. Se la ragazza sta al gioco e si lascia isolare da te, non è stupida e molto probabilmente sa che cosa sta succedendo. Ora, se sei stato attento al titolo, avrai visto che abbiamo parlato di tre modi per farle capire che le piace, ma senza bruciartela. Passiamo ora al non bruciartela, quindi. Se la ragazza sta rispondendo bene a queste azioni da parte tua, ottimo, ma finora abbiamo parlato solo di azioni di pull, cioè di tirare la ragazza verso di te. Se tu provi solo a tirare la ragazza verso di te, potrebbe anche funzionare, ma più volte che no, la ragazza ti troverà troppo prevedibile e si annoierà. Cosa fare quindi? Semplice. Anche azioni di push. Come si dice in gergo tecnico, infatti, l'attrazione sta nel push, cioè nello spingere via la ragazza. Facciamo qualche esempio. Diciamo che siete a lavoro e lei ricambia il contatto fisico. Potresti spingerla leggermente via e dirle di non fare la provolona, altrimenti vi licenziano. Se lei controflorta con te, potresti dirle che non ti hai reso conto, che fosse così spregiudicata e che ora temi di essere troppo innocente per lei. Ovviamente è uno scherzoso, senza offenderla. Se la inviti fuori in pausa pranzo, vi trovate bene. Iniziate a scrivervi e lei risponde velocemente per due o tre volte. Potresti sparire per un paio di ore, ammesso che, si spera, fra tutte le tue chat tu abbia il tempo di essere così strategico. Insomma, dovresti aver capito il concetto di push. Questo è importante in quanto, se fai solo il pull, lei avrà la sensazione di averti in pugno e molte volte perderà interesse. Stop! Non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi, clicca il link qui a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.